Ok? Si espande. Quando c'è differenza di pressione, la fisica te lo dice, ci deve essere un riequilibrio. Ma ve lo faccio vedere con un esperimento. Ci abbiamo dell'aria in questa siringa. Domanda, l'aria nella siringa a che pressione è? Ha la pressione atmosferica. Differenza di pressione ne sta? No, tutto fermo. E buonasera. Se io però schiaccio, comprimo questo gas nella siringa, Ora, la pressione lì dentro, com'è rispetto alla pressione atmosferica? Maggiore. Quindi c'è una differenza di pressione. Guarda che succede, se lascio. Ok? Si espande. Così funziona il gas dot. Ci sono in migliaia di chilometri distribuiti dei compressori. Schiacciano il gas in modo che la pressione di quel gas sia maggiore rispetto al punto successivo. E che fa il gas a quel punto? Prendi e si sposta e cammina.